Protagonista l'unità cinofila del nucleo carabinieri di Torreglia, che al parco Fornaci è riuscita a individuare il nascondiglio della droga. Nuovo blitz dei carabinieri per contrastare lo spazio di sostanze stupefacenti nei parchi, nelle aree tristemente già note le forze dell'ordine. Un notevole spiegamento di forze questa volta, che oltre alla compagnia di Vicenza ha visto il coordinamento dei militari della stazione di Barbarano, Camisano, Longare e Noventa Vicentina. Al termine delle operazioni sono stati identificati 16 cittadini extracomunitari e rinvenuti quasi 15 grammi di marijuana nascosta in una buca nel terreno.